Anche oggi ad Adrano, marcia ai piedi e strade invase dalla spazzatura, tanti disagi per i cittadini, la raccolta rifiuti prosegue a rilento, vediamo per quale motivo lo chiediamo all'assessore Vincenzo Lucifo. L'assessore anche oggi è disagi, cosa sta succedendo? Non sta succedendo nulla di nuovo. Loro ancora non hanno preso, loro io parlo degli operatori ecologici, non hanno ancora preso il mese di ottobre, scaduto il 15 di novembre, quindi è già da una settimana che ci sono i disagi. Sono in stato di agitazione, hanno fatto delle assemblee ogni due ore, quindi le ultime due ore del loro servizio. E se consideriamo che oggi, questo già è il terzo giorno che fanno queste assemblee a due ore, è chiaro che qua si intravede uno sciopero, perché questo è il terzo giorno, due ore per giorno, è chiaro che è come se un giorno non avessero effettuato la raccolta. Quindi è chiaro che crea parecchie difficoltà alla città. Da questo punto di vista noi siamo molto dispiaciuti, perché il lavoro che è stato fatto in questi giorni insomma va, non dico vanificato, ma poi va recuperato. Quindi stiamo cercando e stiamo facendo di tutto per risolvere questo problema. Abbiamo già saldato noi agosto e questo l'abbiamo fatto già qualche giorno addietro. Stiamo cercando e stiamo lavorando di raffreddare questa situazione. Noi capiamo la loro situazione, insomma perché hanno la necessità di prendere i soldi, ma loro dovrebbero capire un po' la situazione della città. Non è che noi non stiamo, come dire, in questo momento saldando l'azienda, la ditta, perché per un nostro capriccio in questo momento la situazione è questa. Quindi con la loro protesta, senza la loro protesta, dico che certamente creano il disagio, ma non possiamo pagare perché in questo momento i soldi non ci sono. Stiamo cercando di risolvere il problema e questo credo che è una cosa che loro devono capire. Noi siamo stati a loro vicini, abbiamo già fatto degli incontri, ne abbiamo parlato, ne faremo un altro a breve perché questa è una situazione, noi crediamo, che si debba risolvere una volta per tutte. Perché non è possibile continuare in questa maniera, perché non è possibile vedere la città così com'è in questo momento. Ripeto, io capisco le ragioni di tutti, io capisco le ragioni degli operatori, perché ancora non hanno le loro aspettanze e le loro aspettanze sono un sacro diritto, è il loro lavoro. Però la città in queste condizioni credo che non possa stare, perché ne va di quello che abbiamo, ne va della differenziata, perché noi avremmo problemi oggi con la raccolta differenziata. Ne va per il lavoro che stiamo cercando di fare. Assessore, in questa vicenda incide il fatto che non sia stato ancora approvato il bilancio di previsione del Comune? Beh, chiaramente incide, incide come, perché se il bilancio fosse già approvato ci sarebbero i trasferimenti e quindi magari qualche problemino in meno.